Ruggini, ruggini, ruggini Nanatore, le tue patatine erano buonissime Ah, ma cosa dici? Erano le patatine di Ruggini che erano buone Piuttosto, andiamo a guardare un po' di tv Chi è che suona a quest'ora? Ruggini, svegliati, stanno suonando la tua porta Sì, sì, adesso mi alzo La schiena Ma chi sarà a quest'ora? Magari è Pomodoro, avete ordinato qualcosa ragazzi? Ciao! Narratore, ho paura, non ho il pomparolo Narratore, che cos'era quella cosa? Manteniamo la calma Non ho mai visto una cosa così spaventosa Saliamo su e facciamo finta di niente Chiaro? Ormai è qui, sa che siamo Ma è vero? Cosa dobbiamo fare, narratore? Cosa dobbiamo fare? Può disinfestare questa cosa State calmi Quella cosa se ne sarà andata sicuramente Eccolo Ci sto fissando perché ci hai visto Eeeh 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 Non avere dei soldi! Non avere dei soldi! Non avere dei soldi! Metto questi per distra... Oh no, mi sono incastrato in un bufaggio aiuto! Non mi sono incastrato! Corri! 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 Perché si è precarvola queste cose? Salve Noi sappiamo cosa sta cercando Non si preoccupi Lei l'importante che ci segua Venga con noi Sì abbiamo trovato proprio quello che cercavi Sì seguici Tranquillo Ecco quello che sta cercando Non vede c'è un'altra mosca lì davanti Si fidi vada Chiudi la porta narratore Poverino Alla fine chiedeva solo delle lampadine Oh E non potevi dirlo prima Sì ma adesso vado a guardare la tv Ciao ciao Vengo anch'io a guardare la tv Vabbè vengo anch'io aspettando a vedere la tv Alla fine chiedeva solo delle lampadine Alla fine chiedeva solo delle lampadine